Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo è davvero un piacere avere a Radio Bruno Ornella Vanoni, Ornella benvenuta grazie mille innanzitutto ti porto i complimenti di tutti i nostri ascoltatori che hanno amato tantissimo questa canzone e continuano a richiederla quindi il saluto da tutti loro e tutti noi ovviamente di Radio Bruno che ti seguiamo è una canzone intensa, bella sì, è una canzone da ascoltare, non solo da sentire però Pacifico ha rilasciato questa dichiarazione che ti ha ascoltato e ha cucito questa canzone come un abito, su misura per te assolutamente, è la canzone che mi assomiglia di più di tutta la mia carriera diciamo che proprio mi assomiglia nel senso che sono io quella lì, ecco e si capisce sul palco perché lo riempi con una intensità, una magia unica è una canzone che richiede intensità, è una canzone intensa bisogna davvero imparare ad amarsi di più? beh sì, io ho degli esempi di amici che per esempio si sono separati e poi sono tornati insieme e li hanno capito che si amavano com'è questo festival edizione e ideazione di Claudio Baglioni? ma la prima sera poverino Claudio era veramente terrorizzato e di fatti l'hanno massacrato io ho pensato poverino che notte d'inferno che passerà invece il giorno dopo era più sereno, rilassato e adesso lo vediamo sciolto, cantare, ballare, fare tante cose come lui è, non come era la prima sera che era veramente poverino erano tutti emozionati ma è la Hunziker che è sempre così gioiosa anche dalla prima battuta Ornella, subito dopo Sanremo ci sarà questo cofanetto che contiene i tuoi più grandi successi suddivisi in tre momenti sì, in tre periodi c'è l'appuntamento, si chiama l'appuntamento l'altra si chiama una bellissima ragazza, credo e l'altra, Mario, come si chiama? bisogna imparare ad amarsi bisogna imparare ad amarsi quindi la contemporaneità sì, e contiene, naturalmente sono tutti pezzi storici duetti con i più grandi e anche i jazzisti americani e alla fine c'è questa canzone di Sanremo più una di Dan Reichel che arriva da Israele che ha una ritmica molto interessante che non ci appartiene, è molto distante ma da noi, ma molto bella, molto avvincente poi inizierà un tour che ti avviterà anche all'estero ecco, io inizierò il tour subito dopo Sanremo vediamo se reggo o non tiro il calzino verso Padova una curiosità, sappiamo della cagnolina di 10-11 mesi che ti seguo ovunque ovviamente ci sarà anche lei in tour con te sempre sempre, io non la lascio mai sola no, come si fa? è il mio cagnolino Ornella, grazie mille di essere stata con noi prima di concludere comunque è una gara comunque questa sera c'è la finale va già bene così aver presentato questa canzone incredibile? va già bene così va già bene così perché era questo il ruolo che avevo di portare questa bella canzone nella quale credo e mettendomi in gioco con la classifica che non mi interessa mica tanto vincano gli altri così vado a letto prima grazie mille a questa straordinaria donna che continua a fare la storia della musica italiana grazie grazie, grazie, ciao cara ciao Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo in collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renault Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli e Biper Banca Grazie a tutti Grazie a tutti